Ciao da Dario di Alternativa Linux. Atom, editor open source per lo sviluppo di software, sarà messo da parte da GitHub dal 15 dicembre 2022. Cade travolto dalla concorrenza di Microsoft Visual Studio Code. Ecco le ragioni per cui è una spiacevole notizia per il mondo dell'open source e non solo per un programmatore. L'annuncio ufficiale è proprio di GitHub e risale all'8 giugno 2022. GitHub è una collaudata piattaforma hosting per lo sviluppo di software, usata anche dal governo italiano, ma anche da Google, Apple, Microsoft, NASA, tra tanti altri. Atom, celebre editor di test open source rivolto allo sviluppo di linguaggi web e software, lanciato proprio da GitHub nel 2014, si incammina in un viale del tramonto la cui data ultima è prevista per il prossimo 15 dicembre. Da sempre apprezzato per leggerezza, flessibilità e possibilità di personalizzazione, Atom dispone di una miriade di estensioni, quasi 8000, utili per lo sviluppo di differenti linguaggi di programmazione. Sono state nel tempo realizzate dalla comunità e possono essere integrate gratuitamente. Tra gli utenti di Atom ci sono anche io, da anni. Con la mia decisione di non avere più a che fare con Windows e dopo il passaggio definitivo a Linux Mint, ho messo definitivamente da parte, dopo quasi 20 anni di utilizzo, Dreamweaver di Macromedia, azienda cannibalizzata successivamente da Adobe, e ho scelto di affidare lo sviluppo di siti e applicazioni web proprio ad Atom. Ho anche piccoli script Bash per Linux e ci faccio parte del lavoro HTML e CSS per i miei ebook realizzati poi con Sigil. Dopo aver spulciato qualche tutorial Best Atom Plugins, eri in grado di isolare indispensabili funzioni aggiuntive, temi grafici e di colorazione del codice, controlli di sintassi, autocompletamento. Trovavi quello per te e usavi un comando da terminale nella forma APM install per raggiungerli tutti insieme dopo una formattazione. Un editor validissimo per un web developer. Atom però, va detto, ha sempre fatto fatica con file di grandi dimensioni e ultimamente gli aggiornamenti si sono fatti meno sostanziosi e meno frequenti. La notizia dell'archiviazione, così è chiamata la sostanziale messa da parte del progetto, mi tocca quindi personalmente. Il comunicato ufficiale recita Quando abbiamo formalmente introdotto Atom nel 2014, volevamo fornire agli sviluppatori software un editor di testo che fosse estremamente personalizzabile, ma anche semplice da usare. Anche se quello di far crescere la comunità degli sviluppatori resta ancora tra i nostri obiettivi, abbiamo deciso di ritirare Atom per far progredire i nostri progetti di sviluppo basati su Microsoft Visual Studio Code e GitHub Codespaces. Poi, traduco ancora, con l'emergere di nuovi strumenti basati sul cloud, la comunità di Atom ha visto un significativo declino negli scorsi mesi, a parte operazioni di manutenzione e aggiornamenti di sicurezza. Per questo decidiamo di ritirare Atom in modo da concentrarci nel migliorare l'esperienza di sviluppo nel cloud con GitHub Codespaces. Si tratta di un triste addio. Vale la pena ricordare che con Atom è stato realizzato il framework Electron, che, riporta ancora GitHub, ha spianato la strada per la realizzazione di migliaia di app, tra cui proprio Microsoft Visual Studio Code ed altre. Saltando oltre si legge ad ogni modo affidabilità, sicurezza e performance sono fondamentali per GitHub e per servire al meglio la comunità di sviluppatori stiamo per archiviare Atom per dare priorità a tecnologie compatibili con il futuro dello sviluppo software. Fino a qui potrebbe sembrare una comune e triste notizia dell'abbandono dello sviluppo di un progetto open source. Casomai può sorprendere che il più grande archivio di codici sorgenti open source per la collaborazione a distanza sul medesimo progetto software ne sacrifichi uno che ha lanciato pochi anni prima per far progredire il diretto concorrente di Atom, Visual Studio Code di Microsoft. Distribuito sotto licenza libera MIT, quindi con tanto di codici sorgenti rilasciati con le più ampie libertà di intervento. Forse non te lo sareste aspettato. Per migliorare la conoscenza sulla decisione di pensionamento di Atom è utile sapere che in novembre 2016 la fondazione Linux, l'organizzazione no profit creata a sostegno dello sviluppo del kernel di Linus Torvalds, ma più in generale del software collaborativo, annunciava l'ingresso di Microsoft nella fondazione come Platinum Member. Tradotto significa 500.000 dollari all'anno che Microsoft riversa nelle casse della fondazione. Ma non solo, certo. Comunicati ufficiali della fondazione ammettevano il ruolo fondamentale che Microsoft avrebbe potuto rivestire con le sue competenze in fatto di cloud computing e mobilità. Senza poi dimenticare che altri membri platino nel consiglio della fondazione Linux sono Cisco, Hewlett-Packard, Huawei, Intel, IBM, Oracle e Samsung, solo per citarne alcuni. E infatti Microsoft è attualmente impegnatissima su tanti fronti di sostegno e collaborazione su progetti e soluzioni open source, non solo nella fondazione Linux. Molteplici notizie si susseguono sulla stessa scia. Nel 2019 Microsoft si unisce alla Academy Software Foundation come premier member, definita dalla fondazione Linux come iniziativa collaborativa per l'avanzamento dello sviluppo di software open source nelle industrie cinematografiche e legate ai media. Risale a fine aprile 2022 la notizia dell'ingresso di Microsoft nella Open 3D Foundation. Si legge Microsoft si unisce a più di 25 organizzazioni rivolte alla democratizzazione del software per lo sviluppo in 3D di giochi e simulazioni. Microsoft ha certo lo scopo di rendere più compatibili i propri servizi e soluzioni con quelli legati al mondo Unix, ma contribuisce materialmente e non solo con denaro. Chi avrebbe mai pensato anni fa di vedere una pagina web come questa? Red Hat, capofila delle aziende che si sono buttate nell'open source fin dagli albori di Linux, partner Microsoft per lo sviluppo di soluzioni cloud ibride Linux-Windows. Ottima cosa davvero e anche un vero trionfo per il mondo Linux, si potrebbe dire. Certo, il dubbio che a fronte di questa generosità da milioni di dollari annui verso la fondazione Linux certi colossi tecnologici, oltre a contribuire concretamente allo sviluppo di nuove soluzioni open source, possano in qualche modo influenzare il percorso di sviluppo di Linux in base a propri interessi, può venire. Per ritornare alla storia e fine di Atom, nel 2018 Microsoft ha acquistato per 7,5 miliardi di dollari proprio GitHub, casa di Atom e sua stessa creatura fin dalla sua nascita. Tale acquisizione ha messo i due programmi in competizione nello stesso campo. E mentre la popolarità di Visual Studio Code ha continuato a crescere, solo il 13% degli sviluppatori, secondo una statistica di Stack Overflow ha utilizzato Atom come principale ambiente di sviluppo nel 2021, anno in cui Visual Studio Code risulta aver conquistato il 71% degli utenti e Atom il 13%. Non abbiamo bisogno di questi numeri per riconoscere a Microsoft gran fiuto negli affari e potenza di mezzi senza limiti. Ultimamente ha superato per un periodo anche Apple con circa 2.800 miliardi di dollari di capitalizzazione. Certo non sempre è arrivata nei tempi giusti come quando ha sottovalutato inizialmente il fenomeno Internet. Poi si è rifatta con Internet Explorer ed è la concorrenza di un browser preinstallato nel sistema e dei dati che vale ne ha fatte spese Netscape che condivideva con codici open source il primo browser grafico del web. L'exploit dell'editor di codice gratuito ed open source realizzato con un programma creato con Atom il cosiddetto framework Electron in pochi anni grazie anche all'acquisizione di GitHub travolge impietosamente Atom che per la concorrenza di un prodotto fatto oggettivamente bene con uno stuolo di programmatori ben remunerati che Microsoft può permettersi ha ceduto di fronte all'avanzata trionfale del colossale concorrente. È nel 2015 che Microsoft ha cominciato a distribuire questo nuovo programma per lo sviluppo di siti web e altri linguaggi. Open source è disponibile anche per Linux in risposta proprio ad Atom Microsoft Visual Studio Code Visual Studio Code riprende il nome da Visual Studio il punto cardine del successo per la diffusione di Windows uno strumento di sviluppo software che ha consentito ai programmatori di sfruttare a fondo le caratteristiche di Windows e dei suoi cosiddetti framework contribuendo all'enorme scelta di programmi disponibili per ambienti Microsoft Visual Studio Code si scarica in formato DEB o RPM per Linux oltre che per Windows le condizioni di licenza parlano di telemetrie attive che inviano a Microsoft dati sull'utilizzo ma spiegano come disattivarle e informazioni su questo aspetto sono disponibili anche nella finestra principale di Visual Studio Code Visual Studio Code si presenta subito come una bella copia più evoluta di Atom molti strumenti utili che potevi integrare in Atom sono integrati nell'installazione e tanti altri possono essere aggiunti a seconda delle esigenze non ritengo sia questo il luogo adatto per una recensione né per entrare in dettagli tecnici ho in programma un articolo rivolto a webmaster e web developer sulle possibilità in ambiente Linux e lo farò in tale occasione o anche separatamente ma basta poco per comprendere che Visual Studio Code sia uno strumento realizzato con molta cura ricchezza di funzioni tutorial guide video forum inviti a collaborare o suggerire difetti o possibilità di miglioramento e tanta documentazione accompagnano il programma e contribuiscono certamente alla sua diffusione il che è possibile con i migliaia di programmatori ben pagati in quantità merce rara nel mondo open source chissà se Microsoft abbia invogliato quelli di Atom ad unirsi al progetto Visual Studio Code con promesse di remunerazione adeguata senza dubbio Visual Studio Code sorpassa Atom sul suo stesso campo e aggiunge funzioni e articolazioni degne di nota partendo da una base simile magari è davvero solo un bene per la comunità di sviluppatori anche in ambiente Linux se poi il fatto che provenga da Microsoft lo trasforma in qualcosa da evitare per principio non lo so tu cosa ne pensi il codice di Atom resterà disponibile per essere ispezionato studiato e anche riutilizzato in altri progetti accompagnerò Atom fino alla fine del suo supporto e continuerò ad usarlo fino a fine anno è assai probabile che io valuti di ricorrere al programma Gini o anche ad altri prima di ricorrere ad uno fornito da Microsoft ma senza chiusure visto l'approccio almeno apparentemente in pieno spirito open source e comunitario di questo progetto Microsoft non è comunque detto che l'esperienza di Atom sia finita come accennato dopo l'archiviazione il suo codice sarà disponibile per studiarlo o per trarne parti utili o nuovi progetti anzi uno dei principali sviluppatori di Atom Max Brunsfeld si sta impegnando anima e corpo per il lancio di un successore spirituale ad Atom che pare si chiamerà Zed e di cui saranno presto disponibili nuove informazioni ed una versione alfa acerbissima intanto ringrazio GitHub e la comunità di Atom per avermi fornito un validissimo strumento di lavoro quotidiano per anni ed auguro a Zed o qualunque altro progetto che si proponga di offrire una alternativa al nuovo monopolio quanto di meglio lunga vita al software libero e aperto e alla molteplicità di scelte grazie per il tuo interessamento a questo video e un saluto cordiale grazie a tutti